andiamo 2 dove sei? Aspetta eh, ora c'è la porta giusta dove state? allora, guarda Mauro, vieni attenti a scendere venite di qua, venite da dietro attenti eh ma che è? ma che è questo? oh, è dentro, è dentro, è dentro è dentro si, infatti, si attenta, si attenta ma a fondo, a fondo ma è nudo no, valle soli attenti, via 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 è nudo spostate cazzo ah, senti tutto il colpo oh pronti ad entrare? attento, mauro attento, spostate oh, oh diga, diga mamma, mamma via mi chiede un bastardo Maria, quant'è? Vortex, dove siete? siamo giù alla montagna dalla parte della vallata ah, ok non dalla parte di Big Red Town dall'altra parte chi è che sta sparando chi era quello? è quello che ha tornato nei letti non li suggetti ai letti non si distruggono prendete la roba prendete la roba eh quanta roba che c'era guarda quante cose guarda quante cose guarda quante chi è che spara col silenziatore ragazzi siamo noi, siamo noi si, si si, si, siamo noi ok se qualcuno vuole ciò ti prende tutte queste cose qualcuno vuole ragazzi qualcuno vuole ragazzi controllata, controllata perciò io ah, cazzo scusatelo ma non ho rotto, figlia che avete preso di buono andam, ce ne hai dato andam, ce ne hai dato allora ha preso delle armi uno shot, una pistola, un revonto c'è un fuoco c'è un fuoco venite, venite si, 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 sto bene no, mi si è bloccato ancora non buono no 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 stai attento stai attento stai attento guarda che aveva visto un è nudo è nudo è nudo aspetta, ora lo spavento guarda non si fa bene non sparare non sparare non sparare per favore ma che un bimbo minchia picciotti oh fermo, 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 fermo non ti spariamo fermo, fermo Scipione l'africano oh, come fa? Zoro c'è un bimbo minchia ma io gli spararei in testa solo perché è un bimbo minchia ma che cosa, sì, ma che... vabbè ciao, fa mi devi dire saluta padrone vedo una riuscita è una roba di torcia no no c'è una casa si attacca piano piano ma tanto una casa entriamo con c4 io ce n'ho uno voi ce n'avete due diciamo uscito che sfondiamo tu uscite sfondiamo fate il video quale cattiveria il video ma anche bambini che lo sto facendo non sentiamo parlato un po' più forte uscite oscondiamo la porta non abbiamo nulla guardate ah esci dai non abbiamo nulla si stanno chagando addosso che c'è qua venite in casa poi mi chiudono dentro e mi violentano ok sono in casa a combattere sono in casa a combattere si cazzo silenziatore un ferino 76 colpi di pistola me li tengo oh no dai non ci prendete niente però dai la voglia di stare dai peccato va bene va bene va bene li lasciamo stare va bene va bene senti devo bene i cattivi però no no che cazzo gli dai oh che cazzo gli dai no no grazie mille li sfondiamo adesso li buttiamo via io ve lo dico subito se per un'altra volta diceva non vi sentiamo gli sparavo un colpo questo l'avete sentito vedevo il c4 abbiamo già gli sfondiamo no dai no andiamo dai beccati dai vabbè ci abbiamo guadagnato 76 culi hai metti 5 e quadra io ho preso una small rations così se ho fame me la mangio io ho fatto anche il video no poverino a te facciamo il spaventare spostati barte dai li lasciamo stare come se vada un'altra cosa come se hai vestito da bullo questo si ma hai vestito possiamo uccidere tu hai vestito questo ma era come hai vestito dai ho solo l'armatura che mi avete dato noi non te l'abbiamo data noi non te l'abbiamo data noi tutto a te fa si uno di voi mi ha lanciato un'armatura io l'ho data no 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 daccela daccela abbiamo bisogno noi andiamo dai sei preso ma no ma uno di voi mi ha lanciato un'armatura dacci il cappello dacci il cappello il cappello e basta lo considera sostegno di sfida il cappello andiamo io voglio i pantaloni dai scusa uno vuole i pantaloni i pantaloni e basta dai poi ce ne andiamo dacci i pantaloni e basta poi ce ne andiamo dacci credo mi vuole . mi dai pantaloni li prendo li prendo li ho presi l'altra casa gli ho presi gli ho dire su tre case io scusa non è che ci dai anche la felpa ci sei dai oh dai ti dacci da roba dai perché ho tutto già dato Dagniamo! No, io i pantaloni me li tengo come trofeo, eh! Raga, qui ho trovato un'altra casa, eh! Hai visto quando te ne vai da solo cosa succede? Noi facciamo i bulli coi bambini, e tu? Sì, sì! Vieni, vieni, vieni! Hai seguito Don Cane, quello che sto seguendo voi! Non lo so, sto scappando! No, perché sennò ero io! Io ho uno nudo dietro, eh! Vedete sulla strada, ragazzi! Uno venga sulla strada! Sì, sì, io sto andando sulla strada! Eh, è scappato qua! Ho solo questo! Ci avete visto? Ci stava uno, quello che ha ucciso Zoku! Ah, è stato uccido! Eccolo, eccolo, eccolo! Ma bisogna ucciderlo? Sì, sì! Ok! Ma io ho ucciso... Ho ucciso uno che puntava un... Uncannon... Eh, perpiglio proprio le cose base! Era lui! Cosa? Non è che abbiamo ucciso lui! Era quando un mese prima che abbiamo ucciso! Nooo! Io ho ucciso un altro! No, io l'ho ucciso, quello! Michele! Michele, cosa? Andiamo a casa e chiediamo scusa! Allora, ragazzi! Dopo... Sì, siamo qua, Michele! Io sto... Sì, sì, vedo... Allora, io davanti c'ho Bart! Guardate, questo! Vabbè, Michele! Occhio, vieni, vieni! Oh, ho l'assalto dei muti! L'assalto dei muti! Cioè! Due! Oh, Ant Cannon! Ma questa... Ma non gli ridiamo le cose! Ma le ridiamo o no? Sì, si prende la roba! Con la scusa gli ridiamo casa! Gli ridiamo casa! Michele! Dov'è? Dov'è? Che si fa, quindi? No, bella! Vai! Prendi la roba! Ma l'Ant Cannon? No, no! Lo voglio... Oh, no! Sta lutando! Possiamo ucciderlo! Sì! Sì! Oh, ragazzi! Sono qui! Vi prego! Vi prego! Allora! Facciamo così! Se io faccio un 360 e lo ammazzo... Mi tengo la fila! Eh, qua è su Lucien! Digli! Mi aveva appena ucciso un primo del tuo... Del nostro gruppo! Eh, quello che abbiamo ucciso noi! Eh, diglielo! Potete ripetere che non sente! Ha detto che non sente! Che avete detto? Come fa a dire che non senti se... Cioè... Se non senti se non risponde neanche! Se io voglio! Eh, boh! Andiamo, dai, raga figlio! Vabbè, c'è bello! Vabbè! 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 Vabbè!